Michele che ci scrive da Cagliari e dice sono medico e questo è un'autocelebrazione non sappiamo se è vero o non è vero, ma probabile no perché lui ci dice vorrei sapere, la domanda è una domanda che Michele se fai il medico che cazzo allora di domande? Vorrei sapere cosa ne sanno i vostri ospiti di H-Index, di trial clinici, di gestione sanitaria e di gestione finanziaria ma a noi non ci interessa questo, che vuol dire Michele? che domanda è? Io faccio un ragionamento dal punto di vista di giornalista, di divulgatore che è, quali sono le persone che hanno diritto a parlare di un ambito che io non conosco ma da cittadino mi informo perché altrimenti facciamo come le dittature non si informa la gente, non si discute, non si parlamenta, si impone il proprio desiderio e allora siccome così in una democrazia non funziona io mi informo, da chi mi informo? mi informo da quei soggetti che hanno una reputazione, un titolo per parlare l'H-Index è un elemento, cioè l'H-Index è quanto questa persona ha reputazione cioè ha scritto sulle riviste, quanto questa persona ha avuto titoli per poter scrivere per poter essere pubblicato sulle mascherine, bravo, abbiamo seguito i trial, abbiamo seguito le meta-analisi sugli studi randomizzati, controllati, li abbiamo seguiti, adesso li pubblichiamo noi non siamo medici ma abbiamo gli occhi per leggere abbiamo il cervello per pensare, altrimenti saremmo degli schiavi, dei robot schiavi tu questo vuoi? No, ma forse qualcuno sì c'era uno con i baffetti che li voleva tempo fa lo abbiamo seguito anche qui in Italia, lo ha seguito Mezzomondo e ancora adesso Mezzomondo sta seguendo gente che con o senza baffetti vorrebbe imporci un pensiero unico no, noi ragioniamo, noi pensiamo e vogliamo ragionare e pensare insieme alla comunità scientifica non ad una persona, a due o a venti a tutta la comunità scientifica il professor Raul rappresenta la comunità scientifica perché ha una reputazione elevatissima avendo un H-index elevato e questo è quello che noi abbiamo detto se non lo hai capito fai qualche esercizio fai fare qualche esercizio ai tuoi neuroni che sono probabilmente un po' atrofizzati perché non ho capito io la domanda è proprio qui il punto Fabio d'accordo, la scienza ha messo in un concesso ma la politica deve fare la sintesi scusami, ti lascio poi la parola per la conclusione ma penso e non concesso chi decide quali scienziati parlano ecco appunto perché non Raul e si esatto chi lo decide la scienza o la politica la tv o la scienza? eh bravo ecco questa è la domanda oltre al fatto che l'ho detto e lo ridico è una pura ingenuità perversa pensare che la politica debba essere consegnata chi ha in mano ai virologi, agli spettivologi, all'epidemia la politica è dei politici e nemmeno dei tecnici dei politici rileggete mi permetto di dare un consiglio politik als beruf la politica come professione di Max Weber la politica non è improvvisazione di esperti e di tecnici ma è una forma di sapere pratico ecco così la intendeva anche Aristotele è una scienza pratica la politica che non è una scienza teoretica di pura contemplazione non è una scienza poetica di produzione di oggetti come i vasi ma è una scienza pratica che mira all'azione e a nell'azione questo è il punto non è medicina la medicina è un'altra cosa abbiamo scaduto il tempo la medicina non è un'altra cosa proprio perché qua continua a scrivere l'H-index è un indice di reputazione sai che adesso un bel vaffanculo ci sta proprio bene non hai capito se sei un medico guarda, fai il medico ma non parlare perché è inutile è un modo di dire la reputazione per me è indice di reputazione è indice del fatto che una persona se scrive ed ha capacità di poterlo fare e di essere pubblicato significa che ha titolo per farlo quindi per me è reputazione è anche reputazione non è solo quello ma è anche quello quindi è inutile che noi giriamo intorno a questi giochini e guardate poi tra l'altro Diego aggiungo e chiudiamo che far governare da tecnici e quindi da scienziati piuttosto che da da economisti un paese è come far guidare la macchina di Formula 1 dall'ingegnere che l'ha progettata hai capito? che si schianta il primo muro e non è possibile quello deve fare l'ingegnere poi ci penserà le clerche a guidare la macchina hai capito? o un pilota a guidare un aereo non è che il piloti non è che chi ha progettato la carlinga dell'aereo poi lo pilota quello si preoccupasse di progettare la carlinga e non rompesse i coglioni quindi il medico lo scienziato si preoccupasse di dire delle cose poi la politica deve prendere decisioni non scaricare sulla scienza perché la scienza che cos'è? che è soltanto Ricciardi che ci dice fare il lockdown totale non è lui la scienza lui non la rappresenta la rappresentano tutti gli scienziati che dovrebbero essere messi a confronto soprattutto nelle reti del servizio pubblico cosa che invece non accade e su questo noi dobbiamo puntare nelle prossime settimane nei prossimi mesi questo è il punto vogliamo un confronto di tutti gli scienziati non soltanto di quelli graditi al sistema questo è il punto Diego grazie grazie la scienza esiste come comunità in dialogo non come gruppo di druidi nominati da chi sa chi senza titoli scientifici chi nomina chi intendiamoci perché che chi va in tv tra gli scienziati sia uno scienziato può benissimo essere però che sia messo lì da strateghi della televisione o del del giornalismo è la prova che in sostanza non è scientifico il metodo con cui vengono mandati e poi dai messaggi degli pseudomedici si capisce proprio che il medico non può prendere delle decisioni politiche non può neanche imporre non può può dire la sua ma voglio io politico dovrei sentire la voce di uno poi quella dell'altro poi quella dell'altro poi fare una sintesi e trovare un provvedimento che bilanci gli interessi di tutti e che bilanci non solo il presente ma anche il futuro un discorso lungo ciao Diego